buonasera salve ma questo io che lei va a pistoia per caso si deve passare ora per andare a pistoia qua va in su si va in qua va in qua va in qua i 13 che dai 16 che è il 16 16 16 ma lei ha fatti ma io c'è anche il biglietto stai a vedere come lo fanno dentro il controllo lo fanno anche dentro lo fanno dentro c'è un problema fanno sì sì ma lei poi va a pistoia e scende a pistoia proprio allora io vado a pistoia poi vedo quello per andare a viareggio ah va a viareggio ma perché va a viareggio con il treno o con il bus con il treno vedo il treno per andare a viareggio in questo caso ci ho coraggio e va appunto perché gli è caldo e si va in mare un punto perché gli è caldo uno va a montagna ai freschi e quelle sono quelle sono opinioni no scusi sono decisioni personali sono opinioni della massa della massa per stai che per fai che poi che fai ai mare scusa io tanto figli il sole perché sono bravo bravo e figli il sole diventerai ancora più bianco quando ti metteranno dentro la cassa forse a figliare il sole ma io fai bagno poi mi metto sulla spiaggia lì capito sulla spiaggia e poi gli dà noia la sabbia sia nella metà della sabbia e che scomento gli dà noia anche la sabbia io la dà noia e allora vai in macronotto e stai sui piazzare di scopi di solito migliore ma è allora e poi due coglioni due coglioni quelle c'è che va a piegierato allora pigliate a me mettoni figli l'ampone spero aspetta se non c'è la menta no aspetta 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 limone in tecnici che manca sempre manca il limone se c'è rimasto la fragola ecuola inutili cazzo di connessi infatti adesso è vero è però però insomma uno sta a compagnia staglienare la tuzia ma meno uno lo fa anche uno lo fa anche per uscire un po di casa mi chiamo che un'aria non mi fa le tessi diventare di casa di zinghari vai in mare questa è una roba del portavia televisore registratore cioè il motore che a quella è il primo che portano via dove tu vai in mare ma poi ai mare scusa c'è cani carano sotto la sabbia uno che non erano esistenti sui telo si smerda tutto e uno lo sa e uno alle cinque ce n'è quando tutta acqua di bagno alle cinque ce la guarda sono vecchi che vanno a pisciare alle cinque la prostata vanno in mare a pisciare e quello si riscarda la pentolatura via ora mi è passata la voglia via ora voglio andare alla pezzone va alla pezzone io ho la pezzone ora allora si fa insieme oh già metto un monti allora si fa si fa a mezzo della benzina eh si fa non si fa quel tramvai fava paghi i biglietti e fa la polunga che fanno ma sentite uno fa a mezzo quei qui con l'autista c'è questo fa a mezzo della benzina la se non è vera cosa mi avete anche detto vizio si può dopo era per gli sparmiare eh si finita finita milià baffi non si spinita oh via eccolo 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 uno di là e no è sempre a te che vuol tra il vittore